Dopo Arco, anche il Comune di Riva del Garda investe sul business dei matrimoni. La Giunta Comunale Rivana, infatti, ha approvato in questi giorni il nuovo disciplinare per la celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili che allarga, oltre agli stretti confini di Palazzo Pretorio, i luoghi dove si possono celebrare le nozze e non da ultimo recepisce la legge nazionale sulle unioni civili del maggio scorso. I luoghi rivani dove ci si potrà sposare saranno la Sala Freschi di Palazzo Martini, la Sala Rocca in Piazza Battisti con l'utilizzo del parco e infine, in accordo con la società Lido e i nuovi gestori, anche la Spiaggia degli Olivi, terrazza compresa. La delibera indica poi anche le tariffe che verranno applicate d'ora in avanti, con una sostanziale differenza tra residenti e non residenti.